Sono stati individuati i 10 alberghi nella regione Marche per garantire l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria dei soggetti covid positivi che non hanno bisogno di cure ospedaliere e che non possono effettuare l'isolamento nella propria abitazione. Lo ha annunciato l'assessore alla protezione civile Stefano Guzzi grazie ad un accordo con le associazioni di categoria. Di queste, dopo il sopralluogo di verifica da parte del personale Asur, 10 sono risultate idonee. Con questa disponibilità potremo alleggerire i reparti e tutti i pronto soccorso degli ospedali lasciando spazio ai casi più gravi e garantendo un ambiente confortevole e protetto a chi invece, pur essendo positivo, non ha bisogno di essere ricoverato ma non può rientrare nella propria abitazione per vari motivi come la mancanza di spazi separati dal resto della famiglia o la presenza di soggetti fragili in casa. Gli alberghi saranno scelti in base alle esigenze segnalate dall'Asur Marche sia in termini di capienza che di area di riferimento. Per ora ne sono stati contrattualizzati due per un totale di 104 posti letto. A Senigallia l'hotel Atlantic che servirà la zona del centro nord delle Marche e a Monte Cassiano l'hotel Recina che servirà il centro sud della regione. Domani, conclude l'assessore Aguzzi, è previsto l'ingresso dei primi 15 ospiti. Se sarà necessario, quando avremo riempito al 75% i due alberghi, procederemo ad ulteriori contratti e così via per evitare uno spreco di risorse finanziarie. Oltre ai due hotel già citati, ci sono altre strutture per un totale di 533 posti letto in tutta la regione. Per la provincia di Pesaro Urbino invece sarà a disposizione l'hotel di Baia Flaminia a Pesaro.